cari amici di youtube mi trovo alla chiesa di sant'antonio a piazza asti ci sono otto campane e oggi faranno il plenum premesso che qui non lo fanno mai ma mi sono accordato con il parroco ed è stato molto carino che me le ha fatte programmare tutte otto alle 11 e 45 sono otto campane in re o re calante molto grandi non so chi le affuse ma appena avrò modo cercherò di serie sul campanile a domandarlo veramente ringrazio padre giuseppe dei patri locazionisti per la grande disponibilità dimostratami e adesso beh buona domenica e attendiamo il plenum che partirà fra bevissimo credo a questa chiesa si trova in piazza asti non so se già l'ho detto è dedicata prima era sant'antonio da padova e adesso sant'antonio maria annibale di francia chiesa molto moderna all'inizio della via tuscolana praticamente fra san giovanni la via tuscolana in questa zona obiettivamente ci sono campane parecchio grandi perché c'è santa mesilatrice la chiesa di ogni santi che ho sentito un'altra non so bene quante ce ne siano poi mi informerò e più avanti di un bosco cioè qui ci hanno speso parecchi soldini per le campane magari tutte le chiese facessero così soprattutto poi sono concerti completi questo è importante queste sono otto campane in scala scala diatonica buona domenica 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 E' finito. Ancora un grande ringraziamento a Padre Giuseppe per la disponibilità di mio strato. A presto.